Una cerimonia sobria, quella che si è svolta per il 246esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza anche a Brindisi, un momento in cui un pensiero particolare è andato a tutte le vittime da coronavirus. Ma è stata anche l'occasione per tracciare il bilancio operativo del 2019, oltre che dell'emergenza da Covid-19. Nell'anno in questione sono stati eseguiti 9.516 interventi operativi, di 1.249 indagini delegate dalla magistratura ordinaria, è contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale. Sono state 76 reati fiscali scoperti e sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro. Il contrasto della Guardia di Finanza ha riguardato anche il settore della tutela della spesa pubblica, dove si sono registrati 330 interventi. Particolare attenzione è stata posta all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, dove non sono mancate le denunce. Nell'ambito del contrasto ai traffici di stupefacenti, finanziari di Brindisi hanno sequestrato 342 kg di droga e arrestato 12 persone. Contrasto anche al gioco illegale, che ha fatto registrare oltre 20 violazioni. A seguito dell'emergenza Covid, il Comando Provinciale ha effettuato 800 controlli a partire dallo scorso mese di marzo, per assicurare il rispetto delle misure della pandemia, con 18 persone denunciate. Massima attenzione è stata posta alla tutela dei consumatori, in particolar modo in riferimento all'illecita commercializzazione dei dispositivi di protezione dalla coronavirus. Sequestrate infatti 45 mila mascherine e 100 litri di liquidi igienizzati. È stato un momento intimo durante il quale sono stati ricordati i caduti, e mi sento di dire che sono stati ricordati tutte le vittime di questa pandemia che tuttora sta travolgendo il nostro Paese. È stato anche un momento, possiamo dire oggi, di bilancio. Di bilancio con riferimento a tutta l'attività che hanno eseguito e concluso i reparti della Guardia di Finanza di Brindisi durante lo scorso anno, ma soprattutto per l'azione posta in essere in questi ultimi tre mesi dai reparti della Guardia di Finanza. Le nostre competenze di Polizia Economico-Finanziaria infatti ci porteranno a controllare quel flusso di liquidità che il Governo adesso ha disposto attraverso gli ultimi provvedimenti di legge. Non abbasseremo la guardia e continueremo a monitorare eventuali recrudescenze di fenomeni usurai e soprattutto faremo attenzione, vigileremo affinché quella liquidità venga distribuita a chi ne ha diritto, piuttosto che evitando che vada a finire a cittadini disonesti e soprattutto vada a finire a soggetti indiziati o appartenenti a organizzazioni criminali anche di stampo mafioso. Ecco, l'attenzione sull'evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico legale sarà il nostro principale compito durante questa nuova fase di ripartenza del Paese.